Cofin ha raggiunto un accordo su una direttiva relativa allo scambio di informazioni sui cosiddetti tax rulings, cioè gli accordi fiscali tra governi e imprese, in particolare le imprese grandi e multinazionali, ma anche con attenzione alle imprese più piccole. Questo è un ulteriore passo in avanti verso la trasparenza fiscale che, come sapete, già avuto importanti risultati, quindi questo penso che sia molto importante d'ora in poi.